Oggi parliamo di Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Chi vi parla è Roberto Sedda, vi porgo un cordiale benvenuti in questo nostro spazio settimanale in cui si parla di libri. Questa puntata si pone in diretta a continuazione con quella della settimana scorsa. Dico per chi magari non fosse stato in onda che abbiamo parlato del David Copperfield di Charles Dickens e in chiusura di puntata vi ho detto che c'è un altro romanzo di Dickens che assomiglia molto al David Copperfield ma che ne rappresenta per alcuni aspetti potremmo dire non tanto il contrario ma forse ecco la metà oscura potrebbe essere una definizione abbastanza interessante e anche precisa. Sarà necessario ovviamente per parlare del romanzo di oggi nel taglio che gli voglio dare di continuare a fare riferimento al David Copperfield della settimana scorsa. Mi scuserete se magari rispetto alla scorsa puntata ci sarà qualche piccola ripetizione. Allora diciamo che il punto di partenza del romanzo di oggi che è Grandi speranze è molto simile a quello di David Copperfield. Cioè partiamo da un ragazzino che è un orfano. Nel caso del David Copperfield il ragazzo era orfano ma era ancora viva la madre però c'era un patrigno cattivo e così via. Qui abbiamo una sorella che è una sorella abbastanza diciamo priva di raziocini o priva di intelligenza la quale non è certamente una grande figura educativa. In realtà tutto l'ambiente in cui è immerso il ragazzo è un ambiente della brughiera inglese di persone diciamo certamente non di grande cultura ma anche forse di scarsi sentimenti di scarsa nobiltà d'animo per cui un ambiente in cui certamente un ragazzino potrebbe crescere un po' diciamo pure abbruttito. In realtà non è tutto così ci sono già in questo ambiente rurale che ci viene presentato delle figure positive in particolare questo fabbro Joe presso cui l'orfano dovrebbe fare il suo apprendistato diciamo di artigiano ma certamente diciamo è un ambiente dal quale è ragionevole che un ragazzo voglia scappare e il nostro orfano vorrebbe abbandonarlo. Si sente diciamo inadeguato rispetto a quest'ambiente o forse più esattamente si sente superiore. Le grandi speranze del titolo non sono diciamo le grandi speranze nel senso del termine con cui noi lo potremmo utilizzare ma sono grandi speranze in senso materiali. Potremmo dire sono come le speranze di chi si aspetta di ricevere che so un'eredità oppure che si aspetta di ricevere una promozione lavorativa che comporta grossa remunerazione economica ecco qualcosa di questo genere. Come fa un orfano delle paludi del Kent a pensare di avere grandi speranze in questo senso? Perché è capitato qualcosa quando aveva pochi anni che l'ha indotto a ragionare in questo senso? Cioè c'è una villa nobiliare nei dintorni in cui c'è una ragazzina questa ragazzina non ha nessuna della sua età con cui giocare perciò l'anziana vedova che vive in questo maniero ha pescato diciamo tra le case dei vicini un ragazzetto del popolo che possa fare compagnia alla sua pupilla. Perciò Pip questo è il nome del protagonista è entrato in questa villa è rimasto colpito e soprattutto ha conosciuto la bellissima pupilla dell'anziana vedova che vive in questa villa Estella che è il protagonista la protagonista femminile del libro è anche l'oggetto della sconfinata ammirazione di Pip per cui in realtà le grandi speranze di cui parliamo sono quelle certo di diventare ricchi poi vi dirò come mai ma anche e soprattutto quello di sposare Estella. Sono dei sogni dolcissimi che Pip prova come quelli di cui parlano gli Eurythmics nella canzone che noi adesso ci ascoltiamo per fare una pausa Sweet Dreams. Cari ascoltatori ben ritrovati ancora sulle frequenze di Radio Calaritana questa era Sweet Dreams degli Eurythmics e noi parlavamo prima della pausa esattamente dei dolci sogni delle grandi speranze che prova Pip il protagonista dell'omonimo romanzo di Dickens. Avevo detto che Pip fin dall'infanzia ha concepito una sconfinata ammirazione che poi è diventata diciamo innamoramento cotta giovanile che poi è diventato amore vero e proprio per Estella la bambina che vive nella villa nella ricca villa vicino all'umile invece abitazione dove risiede Pip. Ora probabilmente quello di Pip sarebbe rimasto un amore platonico un amore assolutamente privo di qualunque possibilità di realizzazione se non fosse che a un certo punto Dickens fa accadere qualcosa di straordinario. Cioè arriva un avvocato londinese che dice che c'è un benefattore ignoto che ha deciso di pagare per l'educazione di Pip e perciò Pip dovrà trasferirsi da questa oscura e sgradevole palude del Kent in cui vive per andare nella grande città e lì diventare un gentiluomo. Allora Pip fa qui delle deduzioni che non sono forse fortunatissime e cioè gli viene in mente che lui non conosce nessuno che sia ricco se non la ricca signora Avisham che è la tutrice che ha adottato Estella e perciò pensa ecco vedi si sono accorti del mio amore mi stanno preparando perché io possa sposare Estella. Diciamo ci sono nel romanzo parecchi indizi che le cose forse non stanno proprio così ma Pip vuole crederlo. Parentesi vi chiedo scusa se vi sto raccontando tutta la trama non ci sono altri modi per raccontare il libro che non raccontare questi meccanismi narrativi che Dickens mette in opera. approfitto per dire che il romanzo è molto di più di questa trama per cui vale la pena di leggerlo anche se apparentemente sapete già come va a finire perché io vi sto diciamo rovinando per alcuni aspetti la sorpresa. Allora vi stavo dicendo che capite che c'è una sorpresa e una sorpresa sgradita per il povero Pip perché la sorpresa è quella che chiaramente il ricco benfattore di cui si parla non è la signorina Hevesham di cui accennavo prima perciò Estella non c'entra niente Estella non lo ama non lo vuole amare anche se loro poi a Londra quando lui è già un giovanotto alla moda Estella comunque non ne vuole sapere niente di lui ma soprattutto le grandi speranze di Pip vengono rovinate alla scoperta che diciamo c'è un segreto oscuro dietro il suo benefattore e ci sono delle dimensioni che sono per un nobiluomo inglese per un gentiluomo inglese dell'epoca vergognose per cui diciamo attraverso una serie di vicissitudini tutte le aspettative di Pip vengono a crollare complesa quella della ricchezza e poi con essa o forse a causa di essa o forse indipendentemente non è chiarissimo nella storia anche la possibilità di amare Estella che oltretutto sposa un borioso antipatico brutale compagno di studi di Pip e il suo antagonista capite se pensiamo al David Copperfield che qui le cose vanno tutte a rovescio non c'è nessuna dimensione di ricomposizione finale poi magari vi racconterò delle cose sul finale che sono molto particolari però mentre il David Copperfield David raggiunge la sua stabilità attraverso la scoperta di una donna che in fondo gli era stata destinata da sempre per lui qui è esattamente il contrario Pip insegue un sogno che si rivela alla fine un sogno amaro e non solo inattuabile ma anche profondamente deludente un po' se pensiamo all'idea della mela che sembra bellissima che dentro ha il bruco ed è tutta marcia possiamo capire qual è il tipo di delusione che incontra Pip c'è qui tutto un tema del perché Pip e Estella siano incapaci di amare si dice che sia perché rispetto al David Copperfield e rispetto a Agnes non hanno i genitori Dickens suggerisce che questa dimensione di mancato affetto familiare diciamo inaridisce anche la capacità di amare correttamente non voglio entrare in questa discussione avevo promesso che vi avrei detto una cosa sul finale in realtà Dickens ha scritto due finali questo romanzo uno conseguente alle cose che vi ho detto in cui Pip e Estella si incontrano l'ultima volta e si separano per sempre perché ormai anche se hanno capito che si potevano amare ormai è troppo tardi un altro quando poi l'editore gli ha detto no ma così è terribile il pubblico non lo accetterà ha scritto un altro finale in cui insomma una qualche possibilità rimane però è scritta in una maniera così ambigua cioè con dei dubbi che rimangono al lettore che io credo che di fatto il senso del romanzo sia esattamente questo ci sono amori che danno il senso a tutta la vita come il David Copperfield che vi ho raccontato l'altra volta ci sono amori anche vissuti male che danno il senso alla vita ma la rovinano il nostro tempo a disposizione è del tutto terminato io quindi vi saluto augurandovi buone letture per questa settimana e vi ricordo che oggi parliamo i libri va in onda il giovedì alle 19.10 in replica il venerdì alle 8.30 del mattino da Roberto Seda che vi ha parlato ancora un caloroso saluto e noi ci risentiamo tra 7 giorni Grazie a tutti